La Serie 1 femminile di pallannuoto si appresta a vivere il weekend decisivo per la corsa alle Final Six. La sedicesima giornata ha in agenda due sfide fondamentali per i piazzamenti utili per la post-season. L'equip Orizzonte Catania tornerà in vasca con l'arduo compito di dimenticare la brutta prestazione di Bogliasco, provando a dare risposte convincenti a coach Martina Miceli al cospetto del fin qui inarrivabile plebiscito Padova. Sarà il quinto confronto stagionale tra Etnee e Venete. Dopo quello del girone d'andata, la sfida in finale di Unipol 6 Cup e le due gare di Coppa Italia tra seconda fase e semifinale. Il bilancio è nettamente a favore delle campionesse d'Italia con quattro vittorie, ma sul groppone di Tania e Di Mario e compagni pesano anche le deludenti prestazioni del febbraio scorso e di qualche settimana fa nella Final Six della Coppa Nazionale, che hanno mostrato un divario fin troppo evidente tra l'orizzonte e il plebiscito. Sabato le Etnee si giocheranno tanta parte delle chance di riagguantare il secondo posto alle spalle di Queirolo e compagni, attualmente occupato dalla Water Polo Messina, a sua volta impegnata contro il Bogliasco Terzo. Una situazione di classifica che l'orizzonte ha visto complicarsi nel corso delle ultime settimane, grazie all'inopinata sconfitta contro le Liguri di due settimane fa e che sarà meglio chiarita dopo il recupero della gara contro l'assist Roma previsto per mercoledì prossimo. Il calendario potrebbe ancora dare una mano alle Catanesi, che dopo il match contro le Giallorosse concluderanno la stagione regolare contro Milano e Cosenza. Il cammino peggiore, almeno sulla carta, è quello della Water Polo Messina, che dopo Bogliasco vedrà sul proprio cammino il plebiscito Padova, concludendo poi con Milano. Più semplice, teoricamente, il percorso del Bogliasco, che appena scollinato lo scontro diretto contro Messina se la vedrà contro un'assist Roma verosimilmente già qualificata alle Final Six e il Pescara fananino di coda. Incroci potenzialmente favorevoli dunque per il gruppo di Martina Miceli, che dovrà però ritrovare in vasca le certezze necessarie per le ultime battute di questa stagione.